ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti o bentornati in questo nuovo video sml questo è il mio canale sml Sara intanto vi chiedo come state e io ho un capello che sto per tagliare via io spero come sempre molto 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 belle pelle 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 allora, allora oggi un nuovo video per voi qui sul canale e sarà un video molto 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 rilassante quindi ti invito ad indossare le cuffie e a stendersi o a sederti in un posto tranquillo poi guardate lo sfondo in realtà non è così fucsia nella realtà è tipo rosa ciprio e è bellissimo il faretto con queste luci solamente che devo trovare un modo per coprire questa cosa però per il resto è tutto veramente bello io sono stra 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 contenta con lo sfondo forse magari un po' più ok ecco forse così va a me questo di oggi è un video speciale perché faremo dei suoni con un oggettino che ho comprato ieri e è stata una bellissima giornata ho fatto una passezzata in un centro commerciale ed era da tanto tempo che non comprovo un profumo precisamente dal 2019 che ho comprato un profumo in Irlanda di Lancome ecco io ho quel profumo dal 2019 e mi dura mi dura tantissimo perché metto giusto due spruzzi e anche perché di più mi darebbe molto 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 fastidio quindi ieri ho voluto comprare un altro profumo visto che ormai mi è un po' stufato questo che ho da un po' di tempo e vorrei appunto cambiare ed ero indecisa tra i due profumi infatti il secondo profumo quello che non ho comprato era veramente molto molto buono e sto parlando di Hypnotic di Dior ragazzi ce l'ho ancora qui sul polso e veramente mi sta piacendo tantissimo infatti ci sto facendo un piccolo pezzerino intanto vi faccio vedere il profumo che ho comprato ieri io non sono una grande collezionista di profumi ne compro uno aspetto che finisce ne compro un altro aspetto che finisce però appunto quello di Lancome ce l'ho ormai dal 2019 quindi ho voluto un po' cambiare e provare questo nuovo profumo che a dire la verità ero molto molto curiosa di provare ne ho sentito parlare bellissimo e quindi sono andata un po' da Sephora a provare i vari profumi e alla fine l'ho scioglito e io non l'ho ancora spacchettato lo spacchetteremo insieme e sto parlando di Alien poi anche il pack mi rappresenta molto in questo periodo perché è viola e sto in vista con il viola in questo periodo come si sarà appunto ruotato è il pari sfumatore del viola tra il viola rosa e ragazzi allora già il pack della scatola è molto 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 bello e già questo veramente dice tutto di Mugler de Parfum questo è quello di da 30 ml ho deciso di prenderlo di questo formato vabbè uno per il costo e due per io mi stanco subito delle cose quindi vorrei prima provarlo e vedere se non mi stanco perché quello di Lancome da 100 ml mi sono stupata quindi ho pensato vabbè dai risparmi un pochino e poi appunto lo provo prima prima di prendermi ho formato un po' più grande e ora andremo a fare dei suoni di spacchettamento insieme e andremo ad aprelo insieme io ancora non l'ho mai visto quello da 30 ml quindi vediamolo un po' insieme un po' mamma mia allora te lo dorei il grigliato della scritta e anche qui no sotto no c'è qualcuno qua ci sono tutti gli ingredienti acqua è ricaricabile a quanto ho capito però non so come si ricarica nei profumi il botone il lab che è prontale sono forse emozionata veramente non compro un profumo dal 2019 e poi quel profumo non l'avevo scelto per il profumo l'avevo scelto per il pack perché è un diamantino sicuramente se mi seguite da tanto tempo avete capito è proprio carino è proprio carino 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 allora questo è lì dietro e si preme da qua e guardate lì davanti mamma mia che dolcezza e poi è un po' anche vabbè formato da vinciano me lo porterò in viaggio perché è troppo bello per portarlo in viaggio cioè e a me poi i profumi durano parecchio quindi secondo me i formati così sono ottimi e ragazzi è bellissimo allegantissimo è viola un po' quello già mi rappresenta molto in questo periodo per il pack e poi un profumo è una cosa importante penso per una donna per una ragazza e proviamo a spruzzarne un po' io c'ho ancora i Pnotic di Dior voi fatemi sapere se ne vale la pena comprare pure i Pnotic di Dior ragazzi perché veramente qui avevo spruzzato all'alien non mi sta durando qui avevo spruzzato i Pnotic e dura ancora mamma mia ragazzi guardate proprio i riflessi di questo profumo c'è una cosa favolosa guardate mamma mia io adoro proprio adoro proprio proviamo a spruzzarlo mamma mia mamma mia la freganza non potete capire è buonissimo ma fatemi sapere se l'avete provato fatemi sapere se ce l'avete e fatemi sapere voi con i formati come vi regolate perché ok una da 30 ml ad esempio costa meno però costa di più al litro non so se avete capito e quindi in teoria non sarebbe un risparmio sarebbe pagare di più il prodotto però questo è un mio gatto vuole sentire anche lui allian ragazzi è troppo troppo buono 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 mamma mia e questo è l'acquisto di ieri vabbè in realtà non è l'acquisto ho comprato anche delle altre cose però vi farò se vedere magari sul secondo canale ragazzi sono tanto tanto contenta e ora cerchiamo di fare dei suoni con questo profumo fatemi sapere qual è il vostro profumo preferito io ne ho provati un po' ieri devo dire però non mi sono molto piaciuti ho provato ho provato Hypnotic e non mi piace per niente è troppo da signora poi ho provato sempre alien ma rosa quello tutto rosa e non mi piace molto nemmeno quello tutto rosso poi ho provato gli altri ho provato Misty Ar e non mi piace Chloe credo si chiama e non mi piace poi non lo so io con i profumi sono un po' molti non mi piace per il Red Million che se ne parla tanto di Red Million e un po' non trovo nulla però secondo me non è proprio il profumo in sé quanto quello che uno riconosce è il profumo ecco perché alcune profumazioni ci piacciono altre no è molto soggettivo il profumo mamma mia io sono inepriata veramente a questa fracanza fraccazza il polypack ve lo faccio vedere troppo 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 poverino elegantissimo veramente tutto viola e poi ricordo un po' la notte appunto la luna non lo so mi sono innamorata di questo profumo allora ho fatto la notte io spero che il video vi sia piaciuto questa è stata una specie di unboxing di questo profumo e volevo condividerlo con voi perché è veramente una cosa importante il profumo lo so è una cosa molto bella da condividere infatti non l'ho scartato apposta per condividerlo con voi e ora sono tanto 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 contanta e fatemi sapere qual è il vostro profumo preferito e io in realtà non conosco bene insomma così mi fate conoscere un po' di profumi nuovi e magari andrò in a profumeria a provarli quando finirà questo qualcosa del genere magari andrò in a profumeria a provarli anche quando mi finirà questo insomma e io ora auguro la buonanotte vi ricordo di seguirmi su youtube qui sotto premendo il bottoncino se il video vi è piaciuto e di andermi a seguire sul canale Viola ti lascio tutto e sul mio instagram perché ti faccio un sacco di spoiler e ti aperto quando ascono i video e quando faccio il live quindi almeno così restiamo sempre in contatto e ci rilassiamo sempre insieme io ti auguro la buonanotte la buonanotte la buonanotte la buonanotte la buonanotte 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 buonanotte